Scatta una nuova allerta meteo per la giornata di sabato. La regione toscana infatti ha emesso un'allerta di grado moderato per tutta la provincia, Lucca, Piana, Valle del Serchio e Versilia, dalle 8 di sabato mattina 15 novembre fino alla mezzanotte, per pioggia e forti temporali. Allerta meteo ma di grado inferiore, cioè di tipo ordinario, anche per il vento forte, sempre sull'intero territorio provinciale. Le previsioni infatti parlano di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale che interesseranno la Toscana a partire da sabato mattina, quando la probabilità di precipitazioni sarà maggiore nelle zone nord-ovest e sulla costa centro-settentrionale, in estensione al resto della regione dal pomeriggio. I temporali, più probabili in tarda mattinata, potranno risultare intensi e associati a colpi di vento e locali grandinate.